E' il clamorosissimo quarto di finale della nostra sbordone Europa League FC Bandoleros contro i giovanissimi LSNG. E allora cominciò io il commento poi in attesa dell'altro match Coppa Italia Racing Club contro Fenerbahaz con un po' di ritardo. Sono rimasti bloccati i ragazzi del Fenerbahaz sul ponte della sanità. E allora Europa League FC Bandoleros hanno eliminato il Boca 6 a 2. Nel derby di Gold gli LSNG sono passati ai rigori contro il mio Aciwimbledon. Dopo il 2 a 2 nei 50 minuti subito De Luca le formazioni con l'Aro dove sta dove sta con l'Aro. Con l'Aro è là vuole seguire i suoi dall'altra parte del campo poi dopo verrà a fare il commento tifoso come l'ultimo match. E allora Bandoleros in porta ancora una volta a Barbato. Al centro non c'è Avella che qui fuori c'è Buraglia ai lati in proto a Bellofiore. Centrocampo con stanzione Chiumeo e Raffaele Esposito. Avanti Antonio Amato c'è anche Vincenzo Esposito a disposizione. Quindi confermata la squadra più o meno che ha vinto contro il Boca. Tranne Avella che non c'è in difesa ma c'è Buraglia. LSNG giovanissimo 2006 Colella tra i pali. Siciliano al centro ai lati ci sono Papanno e Esposito. Centrocampo intanto palla dentro De Luca salva. Dicevamo il centrocampo con il polacco interno Mezzali Scalzi. E De Luca avanti Campanile. Passo 9. Sportiello in panchina il polacco diciamo. Gioca a terzo a sinistra quindi Scalzi interno. E allora rimessa Ricciardiello con le mani. Vano avanti De Luca anticipato da Bellofiore salta Scalzi. Ancora Scalzi che provano a raccoglierla. Amato lotta. Contro 3. Esposito. Scalzi. Bellofiore. C'è meno una gancia. Altissimo Buraglia. Poi Papallo. La riesce a tenere poi la perde. Parte Raffa l'Esposito. Doppio passo va via in aria. Colella. Prima intervento. In uscita accorcia la porta. Papallo. Tocco centrale. Scalzi. Allarga. Peppe Esposito. Dipetto. Ormai acquistato a titolo definitivo da Agnale SNG. Giuseppe Esposito. Non è più dell'Ajax. Arriva De Luca in contro. Contro 2. Chiude. Fiumeo. E poi Esposito. Pallone al Bounty. C'è un pezzo di cioccolata clamorosamente scelto sul pallone. Fallo. Contro rimescio. Batte il Poli Ricciardiello. Palla dentro con le mani. Colpo di petto. Distanzione. Mette giù. E prova ad avanzare. Dalle parti di Raffaele Esposito. Gran gol per lui. Nell'ultimo match. Contro il Boca. Ecco lo stanzione. La poggia. Cortà. Esposito. Tazza sulla sfera. Prova ad entrare. Stanzione. Alza la testa dentro di là. Papallo in uscita. Alza un campanile. Improta. Dipetto. Alza via. Lotta esposito. De Luca. Le punta un paio. Doppio passo. Va via. Palla dentro. Buraglia lontana. Palla che esce. Danza esposito. Poi c'è un rimpallo. Colilla. Evita l'angolo. Parte il rinvio. Allora si va con le mani. Papallo. Tutto fermo. De Luca. Allora. Collaro. Dovrà fare. La telecronaca tifoso. Come contro i Wimbledon. Tra l'altro potrebbe anche portare bene. E dai Marco. In bocca al lupo. 0-0 Carlo. Giusto? Sto scherzando. Quindi Barbato. Da questo fondo. Con il lancio lungo a cercare Amato. Siciliano lì. Non bene. Colella. Con le mani. Qui ad esposito. Che prova in porta. Barbato. Il calcio d'angolo. Barbato. Quindi dal fondo. Non c'è la tocco sul tiro di esposito. Altro fondo. Colella da terra. Siciliano. Attaccato da Amato. Difende ancora Siciliano. Costretto ad uscire fuori. Bene qui. Campanile. Occhio. De Luca. Punta a Bellofiore. Chiude. Bellofiore. E calcio d'angolo. Scalzi dal corner. Si butta dentro anche Papallo. Occhio alla palla per Ricciardiello. De Luca porre scodellarla. Il tiro. E in porta. Occhio lì. Che salva Bellofiore. Siciliano di testa. Dalle parti di Checco Scalzi. Bellofiore in uscita. Prova Scalzi. È loco. Direttamente in braccio però. A Barbato. Siciliano di testa. De Luca prova. Ma c'è il fallo. Di Lucio. Sessione a due. Occhio. Asportiello dentro. C'è Bellofiore in marcatura. Parte Scalzi. Morbida sul fondo. Papallo. Amato molto bene. Quindi è sposito. Papallo su di lui. Esposito va via. Palla dentro. Siciliano. Il calcio d'angolo. Prova Amato col tacco. Prova a ripartire però. Papallo. De Luca ruba palla. C'è Scalzi sul suo out. Scalzi ancora. Palla dentro. Ancora per Papallo. La palla passa. Occhio. Papallo in aria. Barbato. Il calcio d'angolo. Scalzi. Prova diretto in porta. Barbato. La tiene e fa ripartire Esposito. Esce l'altro Esposito. Va via Esposito. Però quello dei. Bandoleros. Prova col destro. Colella. Il calcio d'angolo. Siciliano. Gioca per Scalzi. Col tacco per De Luca. Occhio che si distende l'SNG. De Luca in mezzo a tre. Ancora De Luca. Prova a chiudere Buraglia. De Luca. Col destro deviato. Calcio d'angolo. Ancora. Totore De Luca. Calzi dal corner. Va lui sul secondo palo. La palla non era male. Chiede scusa a De Luca. C'è fondo. Bello fiore. Non c'è il pressing dell'SNG che aspetta gli avversari nella prova metà a campo. Occhio qui ad Esposito. Ancora Bellofiore. Ancora Esposito. Scalzi su di lui. Amato. Occhio che può girarsi. Sinistro di Amato. Polacco mette fuori. Ancora Amato. Palla dentro. 1-2. Amato ancora. Esce Pa. Pallo. Tunnel di Amato. Siciliano. Sul fondo. Esposito. Esce via così Ricciardiello. Occhio a contropiede. L'altro Esposito ci mette una pezza. Poi Sportiello. Quindi Esposito. L'altro Esposito chiude. Palla e fallo laterale. De Luca. Ingabbiato. In mezzo a 2. Va via. Stanzione chiude. Fallo laterale dell'SNG. Ricciardiello. 3 dell'SNG. All'interno dell'aria. con le mani Sportiello. Buraglia subisce fallo. Quindi punizione in aria per il bandolero. C'è Colella dal fondo. Ancora a lungo a cercare De Luca. Che tocca il pallone. Dalle parti di Barbato. Presa facile. Che gioca subito per Buraglia. Prova il lancio lungo. Siciliano. in calcio d'angolo. Ecco qui a Lucio. Palla sul sinistro. Sportiello. Poi Ricciardiello. Riparte De Luca. L'è lo spazio a cercare ancora Sportiello. Ma si è fatto male. De Luca va via. Esposito. Ma la palla esce. In fallo laterale. Occhio alla palla che passa. Esposito. Prova a concludere. Otro Esposito. Peppe Esposito sulle sue tracce. Raffaele Esposito qui. Abbattuto. Con fallo. Amato. Prova dentro. Copre papallo. Palla sul fondo. Esposito va via. Bellofiore. Col tacco a cercare De Luca. Raffi Esposito. Mette fuori Bellofiore. Fallo laterale. Quindi per l'SNG. Gli è arrivato anche Bocchetti. Parteluccio in prota. Abbattuto da Ricciardiello. Col fallo. Sulla punizione c'è in prota. C'è anche Amato. Barriera 2 per Colella. Occhio al sinistro di Amato. O al destro di Esposito. Va direttamente Amato. Prova lui col sinistro. Ribattuto sulla barriera. Quindi in prota. Direttamente dietro. Dalle parti di Barbato. Giocano i bandoleros. Con stanzione dalla difesa. Palla centrale. Veramato. Occhio. Si distendono. Stanzione. Prova il destro. Colella. In calcio d'angolo. Si muove in prota. Amato a cercare qualcuno. Poi Ricciardiello. Lancia a lungo. Poi occhio qui a Buraglia. Prova quasi un destro. Palla sul fondo. Stanzione. Ci mette una pezza. Poi Amato va. Col sinistro. Palla deviata. Colella. Evita il corner. Fallo laterale. Quindi per i bandoleros. Con Esposito che gioca per Amato. Ancora Amato. Deve uscire dal traffico. Si va dalle parti di Bellofiore. Esposito in pressione. Occhio a Buraglia. Può armare il destro. Buraglia. Palla sul fondo. Colella. A lancio lungo. A cercare campanile. Sbraccia Bellofiore. Fa buona guardia. Quindi ora prova stanzione. Destro di stanzione. Altissimo. Sul fondo. Ricciardiello. Palla centrale. Cercare Bocchetti. Esce via Bocchetti. Occhio. Il pallone non passa. Riparte Esposito. Pressato quindi da Bocchetti. Qui abbattuto. Esposito. Come te fallo. Proprio. Nuo è entrato Bocchetti. Stanzione. Occhio ad Amato in aria. C'è Siciliano. Poi Chiumeo. Stanzione. Prova. Diretto in porta. Altissimo. Brutto il destro. Valla sul fondo. Senza idee. I bandoleros. Colella. Rinvio lunghissimo. Cercare De Luca. Esposito ci mette una pezza. Quindi Ricciardiello. Chiumeo. Ancora Bocchetti. Ricciardiello. Palla alta. Cercare De Luca. Stanzione. Prova ad agganciarla. Quindi ora Sportiello. Chiumeo. Aggancia. Bocchetti. Va via. La palla. E per l'SNC. Con Ricciardiello. Che andrà con le mani. Cercare De Luca. Prova ad uscire dalla marcatura De Luca. Sale stanzione. Copre. Bene. Pa pallo. Pallo laterale. Campanile prova a servire De Luca. Bellofiore. Con qualche difficoltà. Va da Buraglia. Ancora Buraglia. Palla toccata. Da Sportiello. Pallo laterale. Va via. Mezzo a due. Molto bene. Raffaele Esposito. Quindi Buraglia ancora. Allarga dalla parte di Bellofiore. Sovrappone Esposito. Servito invece Amato. Pa pallo. Quindi ora Campanile. Sbaglia qui. Poi Bocchetti qui. A vuoto. Chiumeo. Palla dentro. Stanzione. Prova. Palla sul fondo. Colella. Dal fondo. Il lancio lungo. Stanzione raccoglie. Quindi Ricciardiello. Centralmente. Bocchetti. La palla non passa. Occhio qui a contropiede. A Ricciardiello ancora. Con il destro. In fallo laterale. Occhio a Chiumeo. Sportiello in pressing su Chiumeo. Va via. Joel ancora. Uno due. Che non passa. C'è Ricciardiello. Occhio a questa palla. Direttamente in braccio. A Barbato. Esposito. Palla centrale. Per Amato. Quindi Esposito. Occhio al destro. Chiumeo. Palla che è rimpallata. Occhio a Bocchetti. Riparte De Luca. Tre contro tre. De Luca va via. Stanzione. Bene. Stanzione. Poi Esposito. Centralmente. Per Esposito l'altro. Bocchetti. Ringhia. Fa pallo. Bocchetti. Mette fuori. Occhio a Sportiello. Può ripartire. Checco. Forse la gamba un po' alta. Bocchetti. E c'è un po' pericoloso. Poi Chiumeo qui. Si impegna. La palla è sul fondo. Luca prova col destro. Bato lungo. A cercare Esposito. La palla esce sul fondo. De Luca in aria. Chiude. Buraglia. Pallo lateral. Pallo con le mani. Si muove De Luca. La palla è a cercare proprio De Luca. Stanzione non bene. Poi Esposito alza un campanile dalle parti di Colella. Che chiama all'uscita. E fa solo il pallone. Colella ancora avanti. Bello Fiore la rimette sul destro di Esposito. Esposito ingabbiato. In mezzo a due. La palla non esce. E c'è fondo. Colella. Lancio lungo. A cercare campanile. Difende Stanzione. Ruba il pallone. Stanzione. Quindi ora. Occhio ad Amato. Palla dentro a cercare Esposito. Defilato lì. Prova ad andare via. Ma c'è fallo. Su Bocchetti. Siciliano lungo. A cercare De Luca. Che prova via. Ad andare via con un numero ad Esposito. Tiene anche il pallone in campo. Occhio a Sasi. Si avvicina campanile. Va via De Luca. De Luca in aria. De Luca. Barbato. Molto bene. Poi qui Buraglia. In calcio d'angolo. Campanile dal corner. Occhio a Peppe. Sportiello. Ricciardiello. E De Luca dentro. Va campanile morbido. Cerca il golasso campanile. Calcio d'angolo. Campanile. Dietro a cercare Bocchetti. Bocchetti qui per Papallo. Papallo gioca per Ricciardiello. Ricciardiello dentro. La palla passa ancora. Ricciardiello. Prova il cross. Calcio d'angolo. Ancora per l'LSNG con Ricciardiello che va morbido a cercare. Sportiello. Che tocca debolmente. Occhio qui al contropiede. Amato. C'è Bocchetti su di lui. Ancora Amato. Bocchetti così. Quindi De Luca. Bocchetti sul pallone. Va lui diretto in porta. Valla sul fondo. Per cominciare il secondo tempo. Cambio di formazione per l'SNG con la difesa che rimane invariata. Bocchetti e Scalzi a centrocampo. In avanti Esposito e De Luca sul pallone. C'è proprio Bocchetti. Sembra essere intenzionato ad andare in porta. Si aspetta il fischio dell'arbitro. Cambiato nulla praticamente. Entra la formazione dei Bandoleros. Con Bocchetti pronto. Ecco il fischio di Toni Cerullo. Parte Bocchetti. La palla arriva dalle parti di Ricciardiello che si accontenta del fallo laterale. Ricciardiello a cercare De Luca. Sanzione in pressing. Ancora De Luca. Fallo laterale. E per l'SNG con il tocco di in prota. Ricciardiello. Palla dentro a cercare De Luca. Svetta Chiumeo. Fuori non c'è nessuno. Occhio al contropiede. Stanzione. Porta avanti il pallone. Bocchetti. Molto bene. Tiene anche il pallone in campo. Fa via Bocchetti. Col destro. Palla sul fondo. Fa via sul fondo. Ancora. Bello Fiore a chiudere. Calcio d'angolo ancora l'SNG. Alzi sul secondo pallone. A cercare Ricciardiello che non tocca il pallone e commette anche fallo. Quindi punizione. L'area di rigore dei Bandoleros. c'è Barbato che lancia a lungo. Siciliano qui. Fa scivolare il pallone. La palla finisce di pochissimo sopra. De Luca. Gancia il pallone. Va via in mezzo a due. De Luca col sinistro. Palla sul fondo. C'è Barbato dal fondo. Che va lunghissimo. Occhio a questa palla. Su qui non ci arriva nessuno. C'è fondo. Lancio lungo. Tocca a Esposito. Occhio a Peppe qui. Bello Fiore fa buona guardia. Quindi in prota. Occhio a questo pallone. Che è controllato da Amato. Col tacco molto bene. Esposito. Se lo trascina però sul fondo. Collella dal fondo. Ma deve riposizionare bene il pallone. Vicino ci sono Papallo e Siciliano. Andrà a lungo invece. Portierone di LSNG. Anzi no. Gioca per Siciliano. Arriva ora a Esposito. Centrale. Bocchetti. Alza il campanile. Su questa palla si avventa poi De Luca. Di testa. A cercare Esposito. Buraglia. Qui Esposito. Commette fallo. Punizione. Buraglia. Va diretto in porta. Bocchetti. A domestica il pallone. Quattro contro due. Occhio a Bocchetti. È ritornato già a Chiumeo. Si è riposizionato anche Esposito. Quindi Bocchetti dietro per Pavallo. Palla scotta. Quindi ancora Bocchetti. Prova in tunnel. Esce dal traffico. Dietro. A cercare Siciliano. Morbido. Perde Luca. Buraglia col petto. Molto bene. Stanzione. Ha un po' di campo stanzione. Palla. Nello spazio. È lunghissima. Fondo. Va lungo Colella. Palla a cercare Scalzi. La palla arriva di in prota invece. Occhio qui. Esposito va via. Ma la palla non è toccata da Ricciardillo. È fallo laterale per il SNG. Colella sempre dal fondo. Ancora lungo. Ma la palla è ancora preda di Chiumeo. Chiodamato che prova ad andare via. C'è fallo di mano di Papallo. In barriera per Colella. In area ci sono Chiumeo. Ed Esposito. Amato sul pallone. Occhio al sinistro di Amato. Va Amato. In porta. Palla deviata. Palla di testa. Occhio che può ripartire Scalzi. Che la lancia lunga da in prota. Che stoppa e va via. Stanzione. Ancora stanzione. Morbido. Ricciardillo lo mette fuori. Ancora stanzione. Controlla i dribbling. Palla e nello spazio per Chiumeo. C'è fallo laterale. Siciliano morbido a cercare Esposito. Esce anche Barbato. La palla passa ma è sul fondo. Barbato dal fondo. Andrà a lungo. Eccolo il rinvio lunghissimo. Direttamente dalle parti di Ricciardiello. Ecco il polacco. La palla non esce. Sul pallone ci arriva De Luca ma poi è Esposito. Quindi Scalzi per Bocchetti. Bocchetti per Ricciardiello. Esce bene l'LSNG. Palla nello spazio. Che invenzione di Bocchetti. Esposito non riesce a controllare il pallone. Direttamente in mano a Barbato. Che lancia un altro pallone. Ma la palla esce. In calcio d'angolo. Dopo il tocco di Siciliano. Amato dal corner. Palla diretta sul primo palo. C'è proprio il palo di Amato. Che colpisce il ferro dal corner. Lungo golella. Bello fiore lunghissimo. Si oppone Ricciardiello. Poi Siciliano non bene. La palla arriva direttamente da Chiumeo. Occhio ad Amato. È un sinistro. Ancora Amato per Esposito. Esposito. Palla alta sul fondo. Bocchetti. Va a lungo a cercare Esposito. Sbraccia. Buraglia. Ma la palla è sul fondo. Barbato ancora lunghissimo. Ricciardiello di testa. La palla ancora deve uscire. La tocca Esposito. Ma c'è fallo. Occhio qui a Esposito. Posizione defilatissima. Due in barriera per Colella. La palla a cercare Buraglia. La riprende Papallo. Che alza un campanile. Buraglia bene. Occhio a Esposito. Contropiede dell'SNG. Dentro a cercare. Bocchetti. Palla in mano a Barbato. Che andrà con le mani a cercare qualcuno. Amato aggancia. Poi Chiumeo. Occhio a Gioe. Il tre contro due. La palla è per Amato. In aria. Colella. Ancora Colella. Quindi fallo laterale con Amato. Che cerca qualcuno. Ricciardiello. Ancora. In fallo laterale. Quindi Chiumeo. Occhio ai contatti. Ricciardiello altissimo. Poi Esposito qui. Occhio a Raffi Esposito. Sinistro. Colella. La tiene lì. Occhio qui. Rimpallo. Che stava per favorire Amato. Fallo laterale. Quindi Colella. va a lui. Lungo. Bocchetti allunga il pallone. La palla è ancora sul fondo. Barbato ancora lungo ed alto. Siciliano. Occhio qui. Mamma mia Ricciardiello. Ha rischiato un gol assurdo. Occhio qui al pallone. Buono per Improta. Che non aggancia. Fallo laterale. Bocchetti. Occhio qui a Esposito sul Bocchetti. Lancio lungo. Cercare Esposito. La tocca all'altro Esposito. Campanile in pressione. Prova a girarsi Esposito. C'è addirittura Bocchetti in pressione. Esce molto bene però. Quindi Buraglia. Altissimo. Ancora una volta. Quasi un rinvio. La riprende stanzione. Occhio ad Amato. Bocchetti. La tocca. Ma per Chiumeo. Quindi De Luca recupera. Si distende Sportiello. La palla è proprio per Sportiello. Che prova a sfondare. Alla parte di Improta. Che va col tacco. Panile. Prova il tocco. Combatte Improta. Sul pallone ci arriva Sportiello. L'ultimo tocco invece di. Sportiello. Pallo laterale per. Il bandolero. Arrivato anche mister Avella. Vai. Mito campo. Mito campo. Acci. Acci. Occhio a Chiumeo. Questa palla scotta. Esposito qui. Senza fallo. Occhio al contropiede. Esposito. Punta Ricciardiello. Palla dentro per Chiumeo. No. Chiama fallo. C'è rullo. Assurdo. Cade. Cade Chiumeo. Chiama fallo. Cerullo. Punizione dal limite. Per i bandoleros. Occhio qui. A stanzione. Quattro in barriera per Colella. La muraglia. Va a stanzione. Prova lui. Bocchetti. Posizionato bene. Quindi Sportiello. Palla lunga. Esposito. Può partire il contropiede dell'NSG. Esposito ancora. Va via. Esposito. Abbattuto. Dall'altro esposito. Che chiede scusa. Forse ammunizione. In arrivo. Sì. C'è ammunizione. Per l'esposito dei bandoleros. Sono tre in aria del... Degli l'SNG. Occhio ai contatti. Con buraglia che stava sbracciando verso Esposito. Quindi tre contro tre in aria. Più amato sulla linea. Si propone anche Ricciardiello. Va bocchetti in porta. Barbato. Poi stanzione. Deve allungare. Siciliano poi. Palla lunga. Cercare Campanile. L'appoggio male qui. Ancora Campanile. Arrubare. Prova quantomeno. Tocco e distanzione. Direttamente tra le braccia di Colella. Che tiene pallone in campo. Colella lungo. A cercare Esposito. Aggancia bene. Diventa quasi un assist. Poi Buraglia non si fida del suo portiere. E lancia in avanti. Bocchetti. Sinistro di Bocchetti. E' andirizzato bene. Troppo lento. Il suo giro. Siciliano. Per Esposito. Di testa perde Luca. Occhio a Sasi. C'è Buraglia su di lui. Palla dentro a cercare Campanile. Che stoppa male. Ancora Campanile. Prova ad uscire dal traffico. Stanzione. Va a lungo. Allunga ancora la falcata stanzione. Molto bene. La palla però è preda di Ricciardiello. Che qui sbaglia. Chiumeo. Palla dentro. Ricciardiello. Ci mette una pezza. Palla in calcio d'angolo. Amato. Palla dentro. De Luca mette fuori. Occhio ad Esposito. Ci arriva prima in prota. Occhio a Barbato. Lancio è lungo. Cercare Sportiello. Occhio qui. Esposito. Si coordina. Poi il sinistro di Esposito è fuori. E' fondo. Calcio d'angolo. Tony Cerullo ha dato angolo. Quindi. Esposito. Palla morbida. Chiumeo. Prova a stopparla. La palla è uscita. Sul fondo. Bocchetti. Lancio lungo. A cercare Esposito. Occhio Esposito. In aria. Esposito. Prova a coordinarsi. Esposito qui. Fa tutto bene. Un po' meno il destro. Palla sul fondo. Barbato. Va a lungo. Così Ricciardiello. Si è fatto male però. Poi qui in prota. Bocchetti in pressione. In prota non riesce ad evitare il fallo laterale. Tant'è vero che il pallone esce. Per gli all'SNG. La palla passa per Esposito. Accorcia De Luca. Ancora Raffi Esposito. Vuole il campo. Bocchetti così. Poi in prota ancora. Abbattuto. Dai Esposito. C'è fallo. Paglia prova in porta. Palla sul fondo. Di niente. Bel destro di Buraglia. Occhio qui a Esposito che sbaglia. Intervento. Peppe Esposito in aria. Poi Bellofiore. Ringhia qui. Fallo laterale per gli all'SNG con Sportiello. A cercare De Luca col tacco. Dentro per Scalzi. Palla dentro. Esposito. Esposito. 1 a 0. 1 a 0. Ha segnato. Peppe Esposito. Amato. Prova lui. 1 a 0. L'SNG. Quindi andrà Bocchetti dal fondo. Va a lungo Bocchetti. Di testa Esposito. In fallo laterale. Ricciardiello. Va via ancora Peppe Esposito. L'ultimo a toccare invece Esposito. di Bandoleros. E fallo laterale. Dentro Scalzi e De Luca. Esposito lascia il pallone a Ricciardiello. Che andrà a lungo. Cercare De Luca. La palleletta da Esposito. Stanzione. Si distende qui. I Bandoleros. Esposito qui a battestazione. Buraglia. Da questa punizione. Due in barriera per Colella. Occhio al destro di Buraglia. Occhio soprattutto ai contatti in aria. Buraglia. Prova. Ciro. Gran palla. Colella mette i pugni. Occhio al contropiede. Esposito a Visto De Luca. Ancora Esposito. Qui bene. Stazione. Poi Bocchetti. Vince due contrasti. Ma c'è fallo. Amato dal calcio di munizione. Occhio qui. Tutti in aria praticamente. tranne Buraglia e Esposito. Fa Amato col sinistro. Ti batte su De Luca. Quindi Buraglia. Prova il palleggio. Alza un campanile. Sul pallone. Ci arriva Bocchetti. Che ha battuto dalla stazione. C'è fallo in attacco. Bocchetti. Va a lungo a cercare Scalzi. Si era addormentato Scalzi. Barbato. Tre minuti al termine del match. Barbato va altissimo. Siciliano colpetto. Prova ad evitare il fallo laterale. Ma non ci riesce. Il pallone è uscito. Quindi Bellofiore con le mani. Qui c'è cambio rimessa. Sbaglia Bellofiore. Con le mani. A cercare De Luca. La palla toccata da Bellofiore. Occhio a Buraglia qui. Che si avventa in un palleggio. La palla esce. Fallo laterale. Zona di attacco. Vedete SNG. Pocchetti. Con le mani a cercare De Luca. Occhio a De Luca. Sul corner. La palla è sul fondo. E fallo laterale per l'LSNG. Cerca dentro a cercare Esposito. Ricciardiello. Palla sul fondo. Di niente. Barbato. Fallo lunghissimo. Occhio a questo pallone. Esposito non tocca. Palla sul fondo. Quando manca un minuto al termine. Finisce 1-0. L'LSNG è in semifinale di Europa League. Impresa storica. Goal di Esposito. Che mette tutti d'accordo. L'LSNG è in semifinale. E ci andiamo in semifinale. Ci andiamo in semifinale. Ci andiamo in semifinale. In termini dell'LSNG Bandoleros. C'è poco da dire. L'LSNG sono in semifinale di Europa League. Unico gol della partita. Di Esposito MVP di questa partita. Munniz. Complimenti all'SNG che è in semifinale. E' il semifinale. E' il semifinale. E' il semifinale.